Thank you Trieste, what an amazing place to have a show until next time. Con questo tweet gli Iron Maiden hanno voluto salutare Trieste alla fine del concerto che ieri ha portato in piazza Unità 10.000 persone provenienti da tutta Europa. Quello di ieri è stato il primo concerto di un trittico rock che proseguirà stasera con Steven Tyler, frontman degli Iron Smith e sabato con David Byrne. E' andato veramente tutto liscio per cui è una grande serata di spettacolo, di pubblico che ha messo in risalto ancora una volta di più la bellezza di Trieste e di questo stupendo palcoscenico di piazza Unità. La soddisfazione dell'assessore Polidori induce a più di una riflessione intanto sull'eterogeneità di un pubblico che in alcuni casi è arrivato a Trieste per seguire il concerto ma che si è fermato in città per più di una giornata. Tante sono venute proprio da lontano anche dalla Puglia oltre che dall'estero come da Slovenia, Croazia o Austria e queste sono persone che si fermano più giorni. Queste qui della Puglia per esempio hanno detto si fermano addirittura quattro giorni e la prima volta che vengono a Trieste seguono le Iron Maiden per cui sono venuti apposta e quindi è stato veramente un biglietto da visita che abbiamo offerto loro e che si spera che poi divulghino anche ad amici e parenti. Inoltre Polidori sottolinea un dato che riguarda future location per spettacoli di questo genere. Ci potrebbero essere, ci potranno essere altre location, guardo il Portovecchio come spazio, come possibile contenitore. Non si può pensare che Piazza Unità sia costantemente coperta e occupata da palchi, tra l'altro importanti e ingombranti come questo che fa veramente impressione, così come dall'altra parte non si può pensare che non ci sia alcuna manifestazione.